Il ritorno è orribile! Ok... Dobbiamo spegnere... Otto! Cosa ci fa quel coso là in alto? Salve! Si chiama... Oh, Elwood Pool! Otto! Una torre idrica! L'osservatorio è ancora pieno d'acqua? Sì, eh... Ah, devo salire... Qualcuno mi spiega cosa devo fare? Qui c'era un simbolino... Devo sparargli? Non penso! Infatti... Infatti... Non devo sparargli... E cosa cazzo devo fare allora? Dai, è lì che sta traballando... Ah, secondo me... Adesso sto dicendo una cazzata, eh... Lo so... Però... Non è che devo tirarlo? Ok... Non devo tirarlo... Cosa cazzo devo fare? Qua cos'è? Ah, ok... Chiudiamo la porta col pensiero... Sali... Ok... Nonostante hanno di strutturare il sobratore è ancora pieno d'acqua... Perfetto! Come... Mi può essere d'aiuto? Devo sparare a qualcosa sulla A? Non lo prenderò mai! Help! Help! Da sotto... Potrei sparargli da qui... Lassù... Ma non ha un senso... Non me lo prende neanche come bersaglio... Ragazzi non capisco ve lo giuro... Ok... Perfetto... È pieno d'acqua... Usalo! Come si fa? Ok... Perfetto... È pieno d'acqua... Usalo! Come si fa? Ora il fuoco dovrebbe essere spento... A posto... Ho un ritardo... A posto... Andiamo... Eh no però... Ah vedanto sono scemi... Ah venite! Tu su! Ciao! Oh! Che cazzo fai? Ho provato di uccidermi qualcosa... Salta! Perfetto... Andiamo? Sandy... Dove sei? Una riposina sul divano? Oddio! Ma che cazzo? Non lo sto colpendo... Non lo sto colpendo mai! Siamo morti abbastanza volte? No! Noi dobbiamo morire anche qua da sto coglione! Eh che cazzo... Saliamo! In questo mondo pauroso... Madonna! Arrivo sempre a non prepararti... Perfetto! In bagno cosa c'è? Ah no è una cucina... Si esco di qui? Ok! Ok! Ma porca pu... Piano... Piano... Ok ho capito cosa devo fare... Saltare così e poi così! Mamma mia! Assassin's Creed! Su! 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 Perfetto! Quelle assi blocca il passaggio dalla porta di legno! Penso che quelle ombre potrebbero essermi utili! Beh ombre dovreste essermi... Ah ok! Quindi penso che io dovrei fare... Ehi! Pigroni! Dai! Su sulle assi tutti quanti! Ciao! Ora quindi dovrei tornare dall'altra parte... Penso... Modo! Ok! Fare un salto dritto è una cosa impossibile su questo gioco! Ok! No! Cosa che mi dicevi da lì? Cosa mi dicevi? Sali! Su 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 su! Pazzotti! Perchè qualcuno abbia avuto il problema di accettare a fine del mondo! Ognuno riesce a porre a modo diverso! Ok! Perchè mi dici lì? Io dovrei fare... Oddio! Così! Andiamo! Salve! Noi rubiamo i documenti ai morti! Eh... Va bene! Su di qui! Su di là! Perfetto! In mezzo lo schermo! Molto gentile! Per favore! Si può togliere? Ok! Salto! Rotolino! Non ha rotolato ma son vivo lo stesso! Oh! Un elicottero! Eh... Io vorrei saltare! Vorrei saltare ma non vorrei neanche entrare nella corrente! Per favore! Madonna! Madonna! Ok! Non così! Piano 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 con calma! Saltino! Oh! Oh! Sai che ho saltato un pezzo! Eh! Voglio scendere! Scendi! Ok! Mamma mia! Non sapete che paura ho a farste! Go! Go! Cose! No! Scendere! Ok! Salire! 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 Madonna! Madonna! Io vorrei scendere e attivare questo coso! Ma ho una paura che quei due si incazzino in una maniera allucinante! Però se vado avanti posso andare a qualche parte? No! Sono anche stanco! Giù! Oh! A posto! Abbiamo spento la corrente! Ah! Madonna! Madonna! Devo fare anche di corsa! L'unica corrente che si spegne e si riaccende da sola! Rotola! Ce la possiamo fare! Troppo timista! Troppo! Ok! Siamo ancora... Posso spostarla questa cosa? Sì! Però mi sa non più di così! E ora! Mamma mia che pelo! Ah! Perfetto! E se volesse andare di qua? Sembra un'auto! Ma che sta succedendo? Qua si sparano! Qua si sparano! Fanculo! Via! A posto! Andiamo dai! Un cadavere! Un cadavere! Un cadavere! Un cadavere! Ombre! 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 Non zombie! Hop! 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 Perfetto! Tutte le sfige da me! Oh! No! Bugio! Bugio! Stai per terra un attimo! Oh! Ok! E dove c'è Less Gold? Pawn Shop! Eh... Sì! Scatole! Ah no! Mi sa che è un lucchetto! Qui devo fare... Bang bang! Ah! Perino! Please! Ok! Ci arrivi fino là? Ci arrivi fino là? C'è... Ok! Madonna quanti! No no no! Aspettati! Potevo andare di lì! Cosa c'è qui? La TV! Guardiamo il Pokémon! Oddio! È inquietante sta cosa... Ah! Dovo usare quello per bloccarli mi sa! Non frega niente! Ho fatto le coppia! Sembrano felici! Ma perchè non sono capace? Giù! 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 Fammi usare questo! Regà! Non fa quello che dico io! Ah no! Ok! Ok! Posso richiuderlo vero? Lui apre la botola di qua Questo cos'è? Questo cos'è? Oddio la corrente Madonna Madonna Stai lì Stai lì Madonna Via Rotolino Sono scemo Era qua Apri Madonna ma un po' più lento E vattene un po' a fare in culo No 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 Posso 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 Fatemi passare Ma non è possibile Ok Ci serve un piano Ora io vado Attivo questo coso Io ti voglio uccidere qua Ti voglio uccidere qua Ti posso staccare la testa come quell'altro no eh Stai lì e ti rialzi Si rialza Ragazzi Che cazzo Ricarica Ma Dai ferma Ma che cazzo Allora Ma qua sarà un po' aperto No Perché non ho attivato l'interruttore Giustamente E non c'è un posto Posso arrampicarmi Momentale Ok c'è una sola cosa da fare Boom 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 Ricarichiamo Ah no vabbè Ora già facciamo Corro Corro Ok Via 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 Momento corsa Forest Non inciampare Forest Per favore Per favore Non inciampare più Non farlo mai più Via 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 Tantissimo Via È veramente Assassin's Creed Sto tizio Che tra l'altro Non si chiama Assassin's Creed Il tizio Ma fa niente Boom Volo No No Perché non sali Perché devo andare sotto Ok Su sul cartello E tu cosa sei? Un medikit A posto No 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 Va bene Va bene Va bene così Va bene così Via 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 Sfonda tutto Andiamo Sfonda tutto Via 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 James Do Via Mambo I